Ok, dunque, ci sei Claudia? Io sì, ci sono. Perfetto. Allora, dovrebbe essere già in collegamento uno dei tuoi ospiti, pronto? Sì. Ehi, mi senti? Pronto, Augusto Tagliati? No. No, io sono Giuseppe. Ah, Giuseppe, così, è caduto Augusto Tagliati. Giuseppe, perfetto, ci mandi anche il video, gentilmente. Spero di sì, perché continuo a suonare questo telefono? Questo è il vostro? Non lo so. È arrivato il video? Sì, sì, è arrivato, è arrivato. Come mai non mi vedo? Guarda, devi avere dei problemi. Allora, facciamo una cosa, chiudiamo la chiamata e la rifacciamo. È perché ci sono delle chiamate singole. Ok. Allora, adesso dovrebbe andare bene. Mi sentite tutti? Io sì. Io sì, però adesso non sento più nessuno. Augusto. Augusto? Augusto deve ancora rispondere, mi sembra. Io sì, però adesso non sento più nessuno. Augusto? Augusto deve ancora rispondere. Claudio, non mi risponde Augusto. Provo ad invitarlo di nuovo. Ma poi era lì che aspettava. L'ho aggiunto nuovamente. Giuseppe... Se no, cominciamo con Giuseppe e poi dopo te intanto continui a cercare di chiamarlo, come vuoi. Perché in teoria dovrebbe essere così, che prima facevo un mezz'ora con Giuseppe e poi un mezz'ora con lui. Poi stavo pensando anche che si potevano mettere tutti e due insieme e fare una chiacchierata tutti e tre insieme. Però fai un po' di sì. Vuoi mettermi intanto in contatto con Giuseppe? Non era un contatto che non c'entrava nulla. Comunque non risponde. Ecco, adesso forse ci dovrebbe essere. Augusto? Ah no, io sono Antonio. Ciao Antonio. Mi senti? Ciao. Sì, sì, ti sento benissimo. Giuseppe Nicosia, giungiamo Giuseppe Nicosia alla conferenza. Sì. Chiamalo te perché questi sono pagati. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Siamo? Sì, sì, un attimo. Sì. Pronto? Sì, io ci sono Antonio. Sì, però. Ciao, ciao Antonio. Ci sono, mi sa che siamo già anche in diretta e ti prevengo che forse siamo già anche in diretta. Non sono certa, ma dalla chat mi dicono che già ci sentono. Sì, siete in diretta, Nicosia non risponde. Quindi io direi di cominciare la trasmissione. Cominciamo, cominciamo intanto con Antonio e poi dopo andiamo avanti quando arriva Giuseppe anche con lui. Sì, sì, sì. E il video non c'è, c'è soltanto la voce, vero? Perché qua non vedo niente. Voi non mi vedete niente. Antonio, hai la webcam? Sì, ce l'ho. Dovresti avviare il video allora da Skype? Eh, lo so. Sì, però io ho messo accetta qui la vostra chiamata e mi giro la rotellina e dunque non posso poi cliccare sulla videocamera. Ecco. Ho capito. Accidente. Lo vuoi che proviamo? Aspetta, vuoi che proviamo a uscire? Prova a richiamare, non è un problema. Prova a richiamare. Chiamate voi? Sì, sì, va bene. Richiamo io a tutti. Ci siamo? Sì. Giuseppe, ci sei? Sì, voi mi vedete? Non ti vediamo, dovresti avviare il video. Anche io, però sto avendo qualche problema, ora vediamo. Non capisco perché. Mi sentite sempre, no? Sì, sì, ti sentiamo bene, non sentiamo più né Claudio né Antonio. Niente, è proprio problemi di connessione. Eh, infatti, il problema è questo. Qua mi dà in continuazione in... sta caricando ma non so cosa. Mi può vedere anche il video. Prova a richiamare, Giuseppe, prova a richiamare un attimo. E' con Antonio, mi senti? Sì, ok. Sì, sì, ti sento. Perfetto. Potresti mandarci il video adesso? Aspetta. Un attimo che guardo qua. Ecco, sì. Ok. Perfetto, sta caricando, quindi aspettiamo che carichi. Sì. Allora, intanto aggiungiamo anche Giuseppe Nicosia. Giuseppe mi sta chiamando a me. Io in giusto che tu lo chiami. Sì, non deve chiamare lui. Beh, infatti l'ho rifiutata la chiamata sua. Io qua... mi sentite dunque io qua? Sì, sì, ti vediamo anche Antonio. Sì, ti vediamo anche. Sì, ti vediamo anche il video. Ti vediamo anche. Oh, ecco, ora ti vediamo. Buonasera. Io non vedo... Va bene. Io non vedo niente, comunque lo stesso. Eh, vedrai che dopo funziona tutto. Sì, 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 ok. Sono sempre problemi tecnici. Giuseppe Nicosia non è online in questo momento. Senti, lasciami, lasciami pure con Antonio. Va bene, va bene, cominciate pure appena lo vedo. Ecco, è venuto online. Vediamo se riesco ad aggiungerlo. E lui continua a fare queste chiamate. Vabbè, cominciate pure e eventualmente lo aggiungo io. Ok. Allora, ciao Antonio, benvenuto. Ciao. Ciao. Ciao, ero veramente curiosa di parlare un attimo con voi, perché sono già due mesi che vedo su tutto il web questa azione che state facendo di pubblicizzazione. Vi proponete come coordinamento per le forze antipredizioniste, specificamente per la legalizzazione delle droghe leggere e siccome sono anni che me ne occupo, insieme anche a tante altre persone, io sono segretaria dell'associazione radicale antipredizionista, quindi sono una radicale, ma sono anche fondativa dell'Asia, perché insieme ad altre forze, anche non politiche, diciamo, politiche non, forze antipredizioniste non radicali, abbiamo fondato un coordinamento ormai da circa un anno e mezzo. proprio sul caso specifico dell'organizzazione della coltivazione della nata domestica, ero molto curiosa comunque di intrattenere dei rapporti positivi con voi e di vedere che possiamo costruire insieme, perché io sono veramente convinta del metodo classico radicale che è quello di lavorare con tutti, e quindi oggi sono comunque senza alcuna reclusione. Quindi ora io ti direi anche un attimo la parola in maniera che tu ti possa esporre le vostre proposte e come vi state muovendo, un po' come è nata questa vostra azione che per adesso si svolge principalmente sul web e che ha già raccolto migliaia di consensi. Guarda, come tu saprai, appunto io provengo dall'area liberale, sono stato appunto Presidente del Partito Liberale dell'Emilia Romagna e da sempre comunque sono un antipredizionista, proprio da sempre. Assieme ad Augusto Tagliati abbiamo intensificato nell'ultimo periodo, proprio a livello molto pratico su internet e anche coinvolgendo il nostro segretario nazionale Stefano De Luca, appunto che è nettamente dalla nostra parte, anche lui. E niente, abbiamo dato vita a questo movimento che è appunto l'MLA, il Movimento Liberale Antipredizionista, che ha lo scopo appunto di fare un po', cioè di far capire, come posso dire anche alla gente, in poche parole, che questa legge è una cosa proprio assolutamente, come posso dire, illiberale, proprio castigatrice, che rovina migliaia e migliaia di giovani ogni anno in Italia, perché non è possibile che un ragazzo che viene preso con un quantitativo anche minimo di sostanza, appunto venga poi, come posso dire, divengano poi applicate le sanzioni, sì, criminalizzato, appunto, con appunto dei, cioè, niente, cioè facendoli poi appunto dei, scuse, sono leggermente emozionato perché non sono comunque abituato a parlare, ma comunque, insomma, insomma, il succo è questo qua, ecco, che non è, non è giusto, diciamo, rovinare la vita dei ragazzi per delle quantità minime, ecco, di sostanza, ecco, assolutamente. Io intanto saluto Giuseppe che è entrato in web tv con noi, ciao Giuseppe, ho pensato di fare meglio a mettere tutti e tre insieme invece che fare mezz'ora e mezz'ora, perché magari possiamo chiacchierare tutti insieme, perché tanto poi alla fine dell'argomento, del quale vogliamo trattare lo stesso, poi parlo qualche domanda anche a te specifica, come stanno andando le vendite del libro, naturalmente, e riparleremo anche, anche questo. Ora, intanto, Antonio, volevo parlare una domanda, mi interessa, va a sapere, quindi la vostra non è una posizione antipredizionista, diciamo pura, è una posizione che riguarda le droghe leggere, per le droghe pesanti come la pensate? Beh, per le droghe pesanti, ovviamente, il discorso è diverso, ecco, perché, insomma, le droghe pesanti sono, non è che, cioè, andrebbe, andrebbe, a mio avviso, regolarizzata, ecco, questo uso delle droghe pesanti, però è tutto da discutere, ecco, perché già sarebbe difficile fare entrare nella testa, diciamo, della gente, o anche fare una proposta, ovviamente, in Parlamento di questo genere, per le droghe leggere, dunque figuriamoci poi se parliamo di droghe pesanti. Cioè, la cosa brutta, ecco, io, scusa se ripeto la cosa, è l'aver accomunato, appunto, con la legge Fini-Giovanardi, le droghe leggere con quelle pesanti, che è una cosa assurda, proprio, cioè, non esiste nessun posto, nessun posto al mondo, cioè, è una cosa cinese, ecco, in Cina potrebbe anche essere una cosa, esserci una cosa del genere, ma in Europa, assolutamente, non no, eh, cioè, e niente, dunque questo, comunque qua in Italia... Sì, è un ritorno attaccato, perché avevamo già ottenuto la distinzione tra droghe leggere e pesanti, ai tempi dell'arriolino Varsalli, e siamo tornati netamente indietro, nel senso che poi si avvicina in questa maniera il mercato, nel senso che poi chi va a cercare le droghe leggere si trova anche a contatto con quelli che vendono droghe pesanti, ed è lì poi l'unico contatto che esiste tra i due tipi di sostanze. Io, come posizione, sinceramente, come radicale, sono per la legalizzazione, diciamo, di tutte le sostanze, però, come dice anche te, penso che debba essere una cosa graduale, quindi non è che si possa partire immediatamente vendendo la cocaina in edicola, ma bisogna attuare, e del resto anche da autorevoli esponenti mondiali che si occupano della questione, viene l'indicazione di cominciare a uscire dal proibizionismo proprio attraverso la legalizzazione della canapa, che poi le droghe leggere sono una sola, della canapa praticamente, e anche attraverso la legalizzazione della coltivazione domestica, per quello che riguarda i nostri paesi della canapa, naturalmente per quello che riguarda, invece, le ande da una parte e l'Afghanistan dall'altra, la legalizzazione della coltivazione domestica, cioè proprio delle poche piante per l'uso domestico, anche naturalmente della pianta di coca, per quello che riguarda le ande, dove la pianta è consumata comunque da millenni, non sotto forma di polvere, ma sotto forma di foglia, e dell'opio, naturalmente, per quel che riguarda l'Afghanistan e tutte le regioni del prodotto, la legalizzazione comunque domestica delle coltivazione domestiche. Inoltre, un'altra importante, poi, non so se tu sai che è uscito a giugno il documento della Global Commission, che è una commissione formata da ex esponenti ONU, ex capi di Stato, e loro si focalizzano molto sull'importanza di concentrare le azioni di polizia contro i grossi spacciatori, e smettere di accanirsi contro i piccoli consumatori, contro i tossicodipendenti, contro i piccoli spacciatori anche, perché poi alla fine spesso il piccolo spacciatore o è un tossicodipendente, e quindi un malato, o è un poveraccio che non ha altra maniera di vivere, come di essere comunitario in Italia, insomma, che a volte vivono droghe, semplicemente perché non trovano altra maniera di riuscire a sbaccare il lunario, diciamo. Mettendo a fuoco che l'obiettivo comune per tutti noi è quello, inizialmente, di legalizzare l'uso e la produzione, diciamo, a piccolo livello domestico della canapa, quali pensi che possano essere le mosse politiche che si possano attuare per riuscire? Perché voi siete stati al governo fino a ora, scusami, con Giovanardi, con un sottosegretario, nominato dal governo Berlusconi, che si è veramente accanito sui piccoli consumatori. Abbiamo avuto dei voti su delle leggi, ma comunque abbiamo avuto delle leggi come il nuovo codice della strada, che rende obbligatorio il test antidroga dei suoi cannabinoidi anche, che come sappiamo restano come traccia anche settimane dopo per prendere addirittura la patente, che è una cosa assurda, perché sappiamo benissimo che a prendere la patente non ci si va guidando, quindi è proprio un controllo. No, noi non siamo responsabili di questa cosa, assolutamente. Esatto, anche non volevo dire che eravate responsabili, ma come avete vissuto questo rapporto poi da antipredizionisti, come tu mi dici che siete da tempo, e come hai vissuto questo rapporto all'interno del Parlamento con le varie cose che si sono poi presentate, appunto, del codice della strada, mi viene in mente, ma anche l'ipotesi di introduzione dell'omicidio stradale, come l'avete vissuto un po', perché è una bella frattura all'interno delle forze di centrodestra questa. Sì, ho capito, ma noi non facciamo parte delle forze di centrodestra, noi sono già parecchi anni che non facciamo, abbiamo avuto un sottogruppo e tuttora abbiamo un sottogruppo formato da 5 persone, ma da qualche settimana, voglio dire, dunque noi non abbiamo mai fatto parte di questo governo, assolutamente. Scusa l'ignoranza, può darsi che io sia molto ignorante politicamente, cioè voi non eravate in Forza Italia? No, 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 assolutamente, no. Eravate? No, no, assolutamente, noi, cioè inizialmente, inizialmente il nostro segretario, sì, so che ha avuto dei rapporti con Berlusconi, ma ti parlo del 94, eh? Poi dopo sono subito cessati, sì, ecco, voglio dire, adesso siamo quasi nel 2012, voglio dire, sono durati qualche mese, ma non di più, ecco, dunque voglio dire, dal 94 adesso sono cambiate di cose. Non avrebbe avuto letto in Parlamento da soli? Scusa, veramente, è davvero ignoranza la mia, non è che ti voglio mettervi in difficoltà. Noi abbiamo il nostro esponente, appunto politico, che è l'onorevole Stefano De Luca, che attualmente ovviamente non è in carica, ecco, non è eletto. Ah, ok, lo siete poi dal Parlamento? Eh, certo, certo. Eh, io ero convinta. Comunque per quello che noi, noi non siamo responsabili di niente, ecco, perché non abbiamo votato alcuna legge. No, no, sono io che ho capito che avevate un referente parlamentare che era l'onorevole Musso, se non sbaglio, ma molto probabilmente... Sì, 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 no, no, certo. L'ho capito male o c'è... Sì, 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 no, no, abbiamo, sì, sì, l'onorevole Musso, ma appunto era uno, adesso sono cinque, ma voglio dire, non è che... e comunque non fa parte del, diciamo, del governo, della coalizione governativa, ecco, nel gruppo misto. Ok, e come azione politica, allora ritorniamo alla domanda precedente. Come azione politica, che cosa io ho visto, prima avete iniziato con una raccolta di firme ipotizzando un referendum, che però non hai tempi tecnici per poter essere messi in atto naturalmente, io penso che poi questo, basta guardare un attimo la legge e ci se ne rende conto. La raccolta di firme che voi state facendo, qual è lo scopo politico della raccolta di firme? Allora, la raccolta di firme, prima di tutto, viene iniziata come noi abbiamo scritto sul nostro sito, dal momento che noi raggiungiamo i 10.000 iscritti, adesso siamo a 5.081 e niente, quando arriveremo a 10.000 iscritti, iniziamo, inizieremo ad allestire dei banchetti, un po' nelle varie città, come abbiamo scritto, e a raccogliere firme, ecco, e niente, bisogna raccogliere queste 50.000 firme, dopodiché, appunto vengono presentate e poi sicuramente quando poi si fa la nostra proposta, viene presentata la nostra proposta di legge, e si andrà poi a votare penso nel 2013 e speriamo appunto di avere raccolto qualcosa, ecco, e di raccogliere qualcosa soprattutto, Cioè, noi dobbiamo fare i passi... Cioè, è un punto di consenso quello che cercate di raccogliere? Sì, per adesso, sì, adesso, certo, consenso, ma comunque c'è il nostro impegno assolutamente, in prima persona di esporci, ci esponiamo, io, Augusto e anche tutti gli altri che lavorano con noi, perché comunque abbiamo parecchia gente adesso che ci iscrive ogni giorno, che insomma è una cosa che sta crescendo parecchio, proprio parecchio. Eh no, ho visto, ho visto, infatti, e come mai, quello che mi sono chiesto anche, come mai avete pensato invece di aderire a una delle numerose coalizioni che già si sono formate, che ci ha voluto anni di lavoro per riuscire a formarle, perché, non so se lo sai, ma il mondo antipredizionista era molto molto diviso tra le varie componenti, nell'ultimi due anni, diciamo che in diverse persone ci siamo un po' coalizzati nello sforzo di riunire dei gruppi, e mi sono chiesta come mai voi non vi siete uniti a dei gruppi, o ha dato il sostegno a dei gruppi, invece di proporvi voi per primi come, no, no, accentratore non vorrei che sia negativo, ma come centro in qualche modo di un'iniziativa di raggruppamento. Da dove è nata questa vostra cosa? Ah beh, è nata, è nata, diciamo, soprattutto, diciamo, pensando appunto alle potenzialità, diciamo, del web, che sono infinite e poi dopo appunto noi abbiamo creato questa cosa e sta andando bene, abbiamo delle idee concrete da sviluppare e appunto siamo aperti a ogni tipo di collaborazione, con chi, con noi, come voi, ecco, insomma, lottiamo per la stessa causa, ecco, dunque, dunque andremo avanti, ecco, facciamo passo per passo, perché noi non siamo, diciamo, dei politici di professione o così, siamo un po' le prime armi. Sì, insomma, se sei stato presidente del Paese liberale dell'Emilia, non sei di primo pelo come politico. Va bene, va bene, no, comunque volevo dire, insomma, modestamente, ecco, non è che abbia, insomma, non sono di certo un… Vabbè, comunque sì, insomma, comunque tornando a prima, sì, appunto dicevo appunto del senatore Musso, sì, sì, mi scuso, perché adesso, in questi giorni stanno cambiando molte cose, c'è un po' di casino. Ma, certamente, abbiamo il senatore Musso, certo, che ci rappresenta, certamente questo, ecco. Ok, Giuseppe, hai capito un po' di che stiamo parlando? Vi hai seguito su Facebook? Sì, ormai da settimane seguivamo questa iniziativa da parte del Partito Liberale Italiano. Il problema è che, in verità, io mi senti, mi sentite bene. Un po' male, ti sento un po' metallico. Eh, non posso fare, sinceramente. No, ti capisco. Provare a abbassare un po' il volume, va meglio? Forse un pochino sì, bravo, ok, forse va meglio, vai. Eh, non lo so, io nella situazione politica italiana, per quanto riguarda il proibizionismo, l'anno di proibizionismo, sono un po' stilugiato. Menti fa, già mi era capitato, che sto facendo il nome di qualche altro partito, Beppe Grillo, nei suoi spettacoli, spesso parlava della canapa, del fatto che legalizzarla porterebbe un risparmio notevole da parte dello Stato e anche un guadagno notevole. Inoltre sottolineava che, appunto, la canapa è meno, molto meno dannosa di altre sostanze, perché sono droghe, ma che i nostri attuali ministri proibizionisti non chiameranno mai droghe, come il tabac per l'alto, nonostante provocano milioni di vittime nel mondo. Però poi, alla fine, concretamente, il Movimento dei Cinque Stelle non ha mai fatto nulla. È una bella iniziativa del Partito Liberale Italiano, che sta cercando di raccogliere consensi. Io conosco te, conosco Rita Bernardini, conosco Marco, Marco Pannella, e so che siete arrivati a farvi mettere le manette per, appunto, disobbedienza al civile, per salvaguardare chi, come me, ha avuto dei problemi, perché ha fatto uso di marijuana, perché a casa aveva delle piante. Io seguo, penso che lo saprà da vicinissimo, la storia di Fabio Santa Croce. Fabio, il giorno 6 dicembre, avrà questo processo e speriamo che vada a finire bene. Fabio è un ricercatore, è uno di quelli che ha messo la firma sul Stativex, che prima del Bedrocan veniva utilizzato per, appunto, curare o alleviare i sindomi della sclerosi multipla. Però è in gaccia, questo ragazzo. In gaccia perché è trattato come un... con l'accusa di coltivazione dei vini di spazio, edizione internazionale, mentre è un ricercatore, mentre è insieme alle piante che sono state sequestrate, sono stati sequestrate anche i documenti che dimostrano la sua ricerca su un olio di canapa, che serve a curare il calcinoma. Ora, la situazione in Italia qual è? Quella che cavalcare l'onda del coibizionismo potrebbe essere, in un certo senso, comodo. Non voglio mettere in dubbio nulla, assolutamente. Credo nella buona fede del Partito Libero Italiano, anche di Beppe Grillo, di chiunque decida di apprezzare la causa, per salvare la vita veramente di migliaia di ragazzi l'anno, per risparmiare un quantitativo di denaro notevole, per incrementare in un certo senso, migliorare l'economia di questo Stato, che ne ha sicuramente il bisogno. Ora Berlusconi è andato via, chissà questo nuovo governo, che cosa tra virgolette, questo governo tecnico cosa ci proporrà per risolvere il problema? Sicuramente le mani in tasca ce le verranno a mettere, cerchiamo forse altre soluzioni. Non lo so, sono forse un po' pessimista oggi, vero Paolo? Non so, io so che per esempio un appuntamento importante è quello che ci sarà a livello internazionale, a Viena nel 2012 a marzo, perché c'è la riforma delle convenzioni ONU, perché come voi naturalmente sapete, il problema anche grosso è delle leggi nazionali, che poi si scontrano con delle convenzioni ONU che stanno al di sopra diciamo, che in qualche maniera ci bloccano anche le tentative di legalizzazione, anche se molti Paesi ne hanno messo in atto con diverse scappatoie, però sono sempre comunque costretti a rifarsi alle convenzioni ONU. E questo è un appuntamento molto importante che tutti i movimenti antiprofizionisti stanno preparando ormai da mesi, perché si cerca di creare anche un grosso movimento di popolo proprio, di pubblico, di consumatori, che si faccia sentire in questa occasione attraverso una serie di manifestazioni prima nazionali in ciascun Paese, ora si parla dell'Europa, ma molto probabilmente una cosa che sarà anche molto più allargata che nell'Europa, in modo da arrivare a questo appuntamento con una forza anche di pressione sulle decisioni che verranno prese, perché naturalmente è importante sicuramente agire sul livello nazionale, però poi c'è un'organizzazione che va fatta anche a livello mondiale, che stiamo appunto seguendo con tutti i movimenti, perché poi nel marzo 2012 si va a decidere un po' quelli che saranno gli indirizzi e le linee, se ci saranno dei cambiamenti, siccome sono 50 anni, quest'anno 51 dalle convenzioni ONU del 1961, che sono appunto quelle che poi mettono la canapa insieme agli altri narcotici, che poi sono quelle che impediscono la coltivazione, perché se ne parla come di produzione e quindi ha un'importanza fondamentale il fatto di essere presenti a questi appuntamenti e di essere tutti insieme, e questo è un lavoro che viene organizzato ormai da molto tempo, quindi in qualche maniera io vedrei bene anche al contrario, in qualche modo anche la vostra partecipazione e adesione anche alla manifestazione e alle cose che verranno fatte dagli altri, in modo da poter essere tutti presenti, perché più siamo naturalmente, se tutti i consumatori del mondo riuscissero ad essere presenti, ci sarebbe veramente, Vienna ne verrebbe invasa e non sarebbe possibile per finta di non vederci, però senza arrivare a questo eccesso, speriamo di essere veramente in tanti. Sai Claudio, intanto spero di esserci, accanto anche a Giancarlo Cecconi del segretario dell'Ascia, e spero che ci sarai anche tu, eccetera, sarà una bella festa, e comunque da un punto di vista forse mondiale sono più positivo, ho un pensiero più positivo, perché vedo che le cose si stanno muovendo in un determinato modo. Anche in Svizzera, che ha avuto un referendum l'anno scorso sulla legalizzazione della cannaba, che non è passato perché si parlava di legalizzazione di droga in generale, quest'anno ne torno a parlare. In Repubblica Ceca hanno dato il consenso all'utilizzo per la cannabis a livello terapeutico, e così in Spagna e in Portogallo si iniziano a concretizzare delle idee di CSC, Cannabis Social Club, queste sono tutte le notizie che girano sul web. Mi fa rabbia sapere che in Italia Giovanardi prende i nostri soldi, i soldi ai commenti del web. Aspetta, Giovanardi da Iemi non dipende più Giuseppe, Giovanardi da Iemi non dipende più, guarda, anzi festeggiamo tutti insieme. Infatti, però fino all'altro ieri andavo in giro per le scuole con le spillette, e ho visto l'intervista di un ragazzino che comunque ha risposto e ha detto sì, vabbè il ministro dice queste cose, però penso che i problemi siano altri, che se c'è praticamente un consumatore di cannabis su dieci che diventa un tossico dipendente da droghe pesanti, probabilmente perché questa persona ha dei problemi ben più seri e ha la propensione a utilizzare le droghe. E se non saranno le droghe dove si andrà praticamente ad infilare il suo grande problema, magari saranno altre dipendenze come quelle da gioco d'azzardo che è dilagante in Italia, ma non dicono, anzi pubblicizzano e se ne escono sempre con la frasina giochiamo, gioca in maniera responsabile, però in maniera responsabile cosa? Dopo aver visto una pubblicità che ti dice in questo modo tu diventi miliardario. Certo. Penso che è così. Certamente, Antonio vuoi aggiungere qualcosa rispetto a quello che ho detto? Cioè la necessità di organizzarsi poi tutti quanti insieme perché è molto importante poi riuscire a coordinarsi. Qui c'è da mettere insieme persone che poi la pensano in maniera diversissima su tanti altri argomenti ed è un po' la difficoltà nella quale mi sono trovata fino a oggi. Cioè riuscire a mettere insieme già soltanto i radicali con i movimenti antipredizionisti di sinistra, non è stato semplice perché venivamo delle torte in faccia a caprizzone dieci anni fa e riuscire a riuscire ai rapporti non è stato facile e lo puoi immaginare. Abbiamo idee diverse sulle droghe pesanti, per esempio sulla politica, sulla politica estera, però siamo riusciti a creare una coalizzazione su un obiettivo comune e a questa coalizzazione è da tempo che auspico veramente anche l'aggiunta della parte liberale, anche della parte liberale come dicevo prima di centrodestra, la libertiamo, tutte quelle che sono le forze antipredizioniste in senso liberale e anche economico perché benvenute tutte. L'importante è riuscire a essere veramente, più che a creare un centro, riuscire poi a essere presenti nei momenti importanti tutti insieme. Sì sì, certamente, anche io auspico questa cosa qua, questa iniziativa, io assolutamente, assolutamente perché ci credo veramente. Ovviamente come si parlava poc'anzi qui in Italia abbiamo delle difficoltà enormi, comunque non dimentichiamo perché non è stato nominato, ma secondo me alla fine il maggiore responsabile poi di questa pressione enorme e anche che grava con piacere per loro su Giovanardi o i personaggi di quel tipo lì e appunto è sempre il Vaticano, perché io sono convinto di questo, che il Vaticano ha una responsabilità enorme su un po' su tutto, ecco, che tiene un po' la politica, scusatemi il termine, però per gli attributi, ecco, non voglio essere volgare e dunque… No, no, puoi essere volgare quanto vuoi, non ti preoccupare. Ecco, appunto, ecco, comunque, dunque bisogna, sì, bisogna fare… sì, tenere presente questo, ecco, che comunque la gara sarà dura, però vabbè ci metteremo tutto l'impegno possibile e sicuramente noi, noi dell'MLA, ecco, perché poi è questo soprattutto, perché ovviamente c'è dietro, sì, effettivamente il Partito Liberale, ma comunque adesso, voglio dire, parliamo proprio anche di movimento per la legalizzazione, cioè liberale, antiproibizionista, ecco, questo qua, noi stiamo lanciando questa cosa qua, ecco, perché ormai abbiamo appunto tantissima gente iscritta e poi ne avremo sempre di più che è in sintonia con noi e con voi, ecco, anche… Io penso che un grosso problema anche sia la differenza poi tra vertici e basi, perché questo lo riscontro, per esempio, nei militanti di SEL, nei militanti di SEL è chiaro che la base è fortemente antiproibizionista, per cui da parte dei vertici c'è un certo lasciare mano libera a questi giovani militanti che poi organizzano le feste, organizzano i volantini con la foglia di marijuana, eccetera, eccetera, ora proprio bisogna vedere al momento che poi il consenso l'hanno ottenuto e veramente poi arrivano nei posti di potere, se poi Vendola, in questo caso, o chi per lui comunque, o i leader, veramente avranno questo atteggiamento antiproibizionista, cioè un discorso è concedere ai militanti di organizzare le feste, non siamo nemmeno in campagna elettorale, organizzare appunto pagine su Facebook o la foglia di marijuana, un discorso è poi lavorare seriamente al momento che si ha il governo delle cose in direzione antiproibizionista, a volte purtroppo sono cose molto, molto, molto diverse, questo abbiamo visto anche quel primo governo di centrosinistra che io ho atteso, io sono nato nel 1956 ed ho atteso per decenni un governo di centrosinistra convinta che avrebbe comunque migliorato la legge esistente, fatto politiche di riforma delle leggi sulle droghe, purtroppo in tutte e due le occasioni in cui l'ho vista l'opera, devo dire che ho ricevuto delle grosse delusioni perché non ha fatto, diciamo che non ha fatto del male, ma non ha fatto per rompere niente. Poi la differenza tra quello che è lo spirito e le intenzioni e gli entusiasmi delle basi, poi a volte si scontrano in tutti i movimenti e in tutti i partiti, con la volontà del dirigente che quando va al governo per conformismo, per paura, per rapporti personali quando va bene, oppure per corruzione quando va male non fa abbastanza per veramente fare qualcosa di concreto. Claudio, mi permetti che avrei meglio bravissima e eccezionale questo intervento, e secondo me possiamo allargare proprio a livello nazionale, aggiungerei tanto questo anche per forse interessi, e a volte non ci si espone e non si cerca di cambiare questa situazione, e ti dicevo che si potrebbe allargare questo discorso a livello proprio di popolazione il governo. Io mi accorgo che tra le persone che usano Marivana e quelle che comunque, anche se non la usano, sono favorevoli alla legalizzazione, cioè siamo veramente la nostra gran maggioranza e anche i miei nonni sono per la legalizzazione, per questo, però a livello legislativo questo non avviene. Il Vaticano, abbiamo toccato questa nota, mi è capitato di essere ospite in due trasmissioni, dove c'erano praticamente in entrambe due preti che hanno lavorato in delle comunità, e alla fine della serata parlando in maniera tranquilla, esponendo ognuno i nostri pensieri, loro sostenevano le mie stesse idee, ossia che le persone che loro curavano nei centri di recupero, non erano mai persone affette da dipendenza o comunque con dipendenza da Marivana, loro erano coscienti al fatto che non esiste questa cosa, e che anche loro erano concordi con me col fatto che probabilmente tutti quelli che oggi hanno problemi con l'eroino, con la cocaina hanno iniziato alla cannabis perché era la più facile e la più economica da trovare, non perché hanno iniziato da là per finire da altre parti, anche perché poi alla fine, soprattutto uno di questi due preti mi diceva che tutte le persone che ha conosciuto lui, che avevano problemi con l'eroina, di canna nella vita si erano fatte pochissime e non si sentivano assolutamente soddisfatti, non gli interessava nulla della canna, erano molto più legati invece alla sigaretta e al tabacco. Vabbè, sicuramente, certo, sono pienamente d'accordo. Il problema è chi c'è dietro, chi ha il potere, chi ha degli interessi superiori, ricordiamoci che legalizzare la cannabis vorrebbe dire che ci danno l'autorizzazione di utilizzarla per scopi, diciamo ludici, deve essere assolutamente aperto il mercato di questa straordinaria pianta all'uso medico, tessile eccetera eccetera, farci anche dei carburanti, finalmente magari iniziamo a camminare con auto che vanno ad etanolo di canna, come l'ha pensato Ford nel 1900 e non più a petrolio. Sì, questi poi sono interessi molto in alto. Allora Antonio, senti, in chat è arrivato anche Augusto Tagliati, che sta chattando anche con Daniele Bianchi, abbiamo in chat, e Augusto dice che è arrivato adesso che aveva una riunione con il Partito Liberale e che sono sempre più convinti di andare fino in fondo. Lo riferisco così come inciso che mi viene dalla chat, e quindi se mi sono riusciti ad andare fino in fondo immagino che si riferisca anche all'aspetto antifredizionista. Soprattutto, scherziamo, questa è una battaglia iniziata da noi, da io, da me, da Augusto, dal nostro team, da tutti i nostri sostenitori, perché ovviamente nel Partito Liberale non è che tutti la pensano così, anzi, ma comunque loro la pensino come vogliono, ma noi andiamo avanti per il nostro conto e infatti ci stiamo poi rendendo autonomi quanto sembra. Dunque non ci interessa tanto poi di chi è contrario alla nostra idea. a noi ci interessa chi invece è concorde con noi e auspichiamo appunto di collaborare e anche appunto di aggregarsi con persone come voi e di movimenti del genere. Alla fine poi l'antifredizionismo in qualche modo questo discorso può diventare anche un programma molto più basto, quasi di governo, perché se te pensi all'aspetto per esempio della mafia, cioè a quale colpo veramente, non dico definitivo perché proprio qui si parla solo di canapa, però l'80% degli introiti della mafia, almeno l'80%, poi non si sa perché sono dati, essendo fatti clandestini non sono dati certi, però sono derivati dal narcotraffico e naturalmente in tutto questo la canapa ha una bella parte, direi perlomeno la metà se non di più, certo sono cose indicative, però veramente è un grosso colpo che si può dare all'aspetto della mafia e anche dell'economia al nero, perché naturalmente c'è un'emersione piuttosto forte di mercato che diventa dal nero, quindi con tutti i danni economici e sociali emerge e quindi anzi produce tassazione e produce PIL e produce reddito in qualche modo, quindi è un discorso molto vasto, è un discorso che tocca il discorso delle carceri, perché il 40% degli arrestati sono arrestati per reati violazione diretta delle leggi sulla droga, c'è il discorso sull'immigrazione, appunto con tutta la mano d'opera al nero che viene reclutata in questo tipo di attività, quindi alla fine volendo il discorso antipredizionista stretto anche soltanto sulla canna, poi può essere allargato quasi o forse del tutto ad un programma di governo, si parla dei diritti liberali al comportamento individuale, si parla dei diritti del consumatore e quindi veramente è qualcosa che può coinvolgere tanti argomenti, l'importante è essere molto preparati, perché il nemico che abbiamo di fronte è un nemico molto forte e molto ricco, anche molto potente il previsionismo e quindi bisogna essere molto preparati per le domande che ci vengono poste nei dibattiti pubblici, in televisioni, a volte bisogna essere veramente pronti perché si rischia di dire cose che poi vengono usate in qualche maniera contro di noi, per cui c'è anche da fare un grosso lavoro di studio, di ricerca e di approfondimento per essere pronti a rispondere poi alle obiezioni che ci verranno poste, quando finalmente riusciremo a uscire in dibattiti pubblici che non sono mai stati fatti fino adesso, perché tu sai che l'argomento è molto relegato, in televisione va soltanto la propaganda di regime e non vediamo mai un dibattito vero e proprio, o quasi mai. Sì sì, è vero, è verissimo. Sì sì, appunto quando ho menzionato il problema delle carceri, ce l'avevo in mente, volevo inserire io questa cosa perché sono pienamente d'accordo con te, volevo argomentare in questo senso. Io volevo dire invece a Giuseppe che c'è qui in chat Augusto Tagliati che dice non sono mai stato convinto che la mafia guadagni molto sulla canapa, io vorrei che te Giuseppe rispondessi a questa perché so che invece te nel tuo libro anche scrivi che è l'oro verde della Sicilia la canapa in qualche modo e che invece è una bella parte del mercato del clandestino del narcotraffico. Perfetto, lo rendendo tutte le droghe sono per la mafia la prima fonte di guadagno, io ne ho avuto, lo pensavo, ma ne ho avuto conferma soprattutto in carcere dove parlando con persone in associazione a delinguere scopri che c'è davvero un mercato dietro impressionante, spostano dei quantitativi di tonnellate al giorno di questa sostanza. In Sicilia per marioana e hashish c'è lo stesso discorso, ci può essere a Milano con la cocaina, la camorra della cocaina. Considera che il prodotto marioana è un prodotto che costa all'ingrosso qualcosa come 50-80 centesimi al grammo, proveniente questo da paesi come il Nord Africa o l'Est Europa anche ultimamente, dove ci sono delle leggi proibizioniste anche là, ma i governi sicuramente chiudono un occhio per l'immenso quantitativo di denaro che viene spostato. Se in Sicilia arrivano, parlo della Sicilia forse perché è il punto più vicino alle coste del Nord Africa, arrivano questi immensi quantitativi che ultimamente di raro vengono sequestrati, sui giornali si legge anche se vengono presi sempre ragazzi con quantitativi di 100-200 grammi di hashish, di marilano oppure persone come me che avevano delle piante a casa che sicuramente non fanno parte della criminalità organizzata. Ogni tanto viene fuori anni di grande sequestro, come nel 2008 se non mi sbaglio il stato, se sono in cui sono stato arrestato io, a Gera vennero sequestrati 10 mila metri quadrati di serra a marilano. Se non importa tutto questo guadagno la marilana, se non è loro verde, ma chi investe milioni di euro in 10 mila metri quadrati di serra per produrre qualsiasi sostanza? Se non c'è indietro davvero questo immenso spostamento di capitale, ma come fanno nel Nord Africa a produrre questo quantitativo in mezzo e a portarlo poi fino a noi in Italia, in Europa in generale? Ma qui arriva la marilana, arriva fino dal Messico, fino dall'India, arriva da tutto il mondo, a parte della produzione locale certamente? Perfetto, io penso che la produzione locale sia veramente ben poca cosa, cioè chi ci riesce a dodi andare a casa e lo fa proprio anche per per stringirlo, per non fumare quella roba che trovi per strada che non sai da quante domani è passata o come è stata trattata, che sicuramente non è un prodotto pulito per come lo prepari tu a casa e in più per me era un discorso proprio idealistico, cioè in ogni volta che per strada compri sostanza e superfagenda vi uti, ingrementi il traffico e quindi metti dei soldi in banca la mano. E poi volevo aggiungere una cosa Giuseppe se permetti, che poi questi soldi che vengono incassati dalla mafia vengono reinvestiti, come poi vediamo in scala molto più grande, in Messico e in Afghanistan, ma possiamo vedere anche da noi, vengono reinvestiti in corruzione politica e corruzione delle forze dell'ordine e questo non è uno degli aspetti minori sicuramente. No, no, è il maggiore perché è finalizzata a raggiungere il potere, lo vedi poi, quello che succede appunto, guardiamo nel Sud America o in altre realtà forse anche più gravi, certo alcuni parlano di complotti in questi casi, però che cosa succede? Succede che le grandi campagne elettorali sono pagate proprio da narcotrafficanti. Io ho visto il documentario dopo la caduta dell'elettor Presidente, quando si parlava di Billaden, della famiglia di Billaden che aveva contribuito alla campagna elettorale di Bush dei tempi. Quei soldi dell'Eloina. Esatto, loro sono i primi produttori di occhio nel mondo, non è per il petrolio, sicuramente anche quello avrà il suo, i sciicchi, avranno l'indroito incredibile di capitale, ma non penso che producano occhio così tanto per passarsi il tempo e per mandarlo in giro nel mondo senza guadagnarci tantissimo. Certo, sicuramente non è uno degli aspetti minori. Poi, cosa fate? Avete accarezzato un argomento a me molto caro, quello delle carceri. Il mio libro è un libro che principalmente parla di questo, è la mia storia, è una storia di un ragazzo che aveva delle piante di marijuana e per questo si è stato condannato a tre anni, nonostante se fosse primo reato. Ho passato 51 giorni dentro il carcere malaspina di Casani stessa e questi 51 giorni sorvoliamo sul danno alla persona, ma parliamone in maniera asettica, seria. Quando sono costati i contribuenti? 113,4 euro al giorno. Per cosa? Per recuperarmi? 20 ore al giorno chiuse in una cella e altre 4 chiuse in un cortile che altro non è che una cella leggermente allargata ma senza effetto? Che tipo di recupero sono nei confronti di una persona che ha come unica colpa quella di aver violato una legge che ti impedisce di prendere dei segni e metterli in terra? Io non l'ho preso nessuno. A questo seguono due anni di domiciliari che sicuramente sono stati deleteri per la mia economia, per la mia persona fisicamente ti vedono queste cose. In Italia quello che è successo a me continua a succedere a centinaia di persone, il 30% delle persone chiuse in carcere ci sta per problemi legati alle droghe e negli ultimi anni problemi legati alle droghe vuol dire essere trovati con 20 grammi di cumendasca, come è successo a Stefano Pucchi, ricordiamocelo. Non si può morire perché hai una stecchetta di cumendasca, non vuoi essere chiuso in gella perché hai 10 piante di canapa, 20 piante di canapa o perché sei un ricercatore di questa sostanza. Io sicuramente nel mio punto di vista è troppo di parte e quindi non saranno in tanti ad appoggiarmi. Mi sono contento perché mi arrivano spesso delle mail da parte di chi legge il libro. Scusa, aspetta Giuseppe, dici il nome, dove si trova l'editore e come si fa a comprarlo. Perfetto, il libro, il titolo che è stato scelto dall'editore è Leone Bianco, Leone Nero, la legge non uguale per tutti. Per acquistarlo si può acquistare attraverso il sito con addirittura uno scondo sul prezzo di copertine a zero spese di spedizione. Abbiamo adottato questa politica del sito, non abbiamo un distributore nazionale, quindi lo spediamo noi fino a casa. Il sito è o GiuseppeNicosia.net o appunto LeoneBiancoLeoneNero.it GiuseppeNicosia.net o LeoneBiancoLeoneNero.it Ok, perfetto Giuseppe, grazie, davvero. Un'altra cosa che volevo dire, poi mi è venuta in mente mentre si parlava appunto del denaro che gira intorno a tutte queste cose, da un altro punto di vista ci sono le immense spese che gli stati affrontano per il proibizionismo, cioè le immense spese che la guerra della droga ha iniziato ormai da 40 anni da Nixon e poi Bush, i soldi, non miliardi, non so nemmeno che tipo di cifre si possono usare, ma le quantità enormi di soldi che si sono spesi, mentre dall'altra parte la gente continua a morire di fame al ritmo di migliaia al giorno, si sono spesi per bruciare campi, distruggere completamente, ma anche famiglie di contadini ridotti miseria per eradicazioni, pesticidi e poi tutto quello che è l'apparato giudiziario, l'apparato di polizia, cioè le spese che abbiamo affrontato senza ottenere nessun risultato, anzi la l'uso di droga e il consumo problematico di droga è aumentato in tutto il mondo, perché poi è quello che aumenta col proibizionismo, non è tanto un fatto di consumo, il consumo di droga più o meno sembra che rimanga lo stesso proibizionismo o no, il fatto è che aumenta notevolmente l'uso problematico e l'abuso col proibizionismo e questo è proprio quello che dovrebbe interessare a tutti, tutti quelli che dicono di avere tanta cuore la salute dei giovani, poi quello che interessa non è tanto che non si droghino una volta ogni tanto, ma è che non abbiano un abuso, una dipendenza e un consumo problematico. Scusa Claudia, volevo aggiungere questa cosa, che anzi dove è stata legalizzata i dati dicono che c'è un calo dell'uso, perché probabilmente il gusto del proibito si perde, aggiungiamo anche questo, però più che altro il dato proprio che risalta, che schizza veramente di differenza è il fatto che il consumo in alcune esperimentazioni che sono state fatte, è vero, non è mai aumentato, semmai è diminuito, però è un dato meno forte rispetto al fatto di quanto diminuisce il consumo problematico, la dipendenza e l'abuso, che poi è la cosa più importante. Antonio, volevo ancora dare a te qualche minuto se c'è qualcosa da aggiungere. Sì, no, no, niente, sono d'accordo anch'io perché ho letto proprio, leggevo poco tempo fa che appunto a livello mondiale praticamente l'uso delle droghe è aumentato negli ultimi 6-7 anni, mi pare così, ma è aumentato del 27% a livello mondiale, dunque è una cifra molto molto rilevante, questo è frutto appunto, come dicevate voi, dell'antiproibizionismo e poi appunto dovuto anche ovviamente a tutto il falso moralismo che c'è dietro, perché i governi poi fingono di, sì, ti distruggono delle piantagioni, fanno vedere che bruciano delle piantagioni di coca, ma a questo ti bruciano l'1%, che poi alla fine, che poi dietro i soldi, magari prendono poi tutti gli introiti del resto, ecco, anche per finanziare campagne elettorali, come avete detto, perché dove poi ci sono dietro i soldi, cioè non gliene frega di niente a nessuno, della gente che muore, per dire, per droga, piuttosto di punirli, come si è parlato prima, di punirli, dunque di far lavorare gli avvocati e di far vedere che la gente per bene fa così, punisce i giovani perché fuma lo spinello, perché lo spinello poi ti porta all'eroina, perché tutte queste bacianate qua invece non è assolutamente vero, e dunque io comunque sono proprio solidale appunto con te Giuseppe, ecco prima quando dicevi che magari pochi la penseranno come te, perché magari sei di parte, ma io invece posso, per quanto mi riguarda, io sono sempre stato molto solidale invece con le persone come te, perché a me non è mai capitato di questa situazione che è successo a te, anche se sarebbe anche potuto capitarmi, ecco magari anni fa, e dunque voglio dire, io solidarizzo molto molto con te e lo sento molto 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 questo problema, è assolutamente vero. Ti ringrazio, ti ringrazio e ti invito a leggermi tutti. Sicuramente, sicuramente, guarda, acquisterò. Una cosa che mi fa la mia seguale è che alla fine noi siamo persone che parlano con dati alla mano, accendite i telegiornali in questa tv di regime, perché questo, che almeno non c'è stato fino, non dico fino a ieri, ma proprio fino ad oggi, e vengono fuori invece le statistiche opposte, cioè il proibizionismo ha portato un gallo dell'uso delle droghe nei giovani, oppure c'è un ragazzo che fuma uno spinello e finisce in ospedale, e questo arriva sui primi telegiornali, poi si scopre magari che non trovavo neanche marivana nello spinello, nessun THC nel corpo del ragazzo, mentre nessuna televisione, nessun telegiornale dice mai, una persona malata di sclerosi multipla ha tratto notevoli benefici dopo soli sei giorni di cure con il Pedro Cancon con la marivana. Perché? Perché la verità rimane vincolata al web e ti cerca di diffonderla, passa sempre per il fanatico di questa erba del diavolo? E questo purtroppo è quello che hanno fatto un buon lavoro, c'è da dire questo, hanno fatto un buon lavoro in questo senso, perché hanno appunto manipolato la mente del popolo in genere, ecco perché è così, questa sostanza viene demonizzata proprio in una maniera incredibile, proprio e io guarda, non so cosa dire. Ti assicuro che io... Volevo raccontarvi anche io un attimo l'esperienza mia, perché voi avete detto uno è stato in carcere per la coltivazione domestica, un altro ha detto io no, ma poteva capitarmi. Anni fa, nonostante che sia anni fa che adesso faccia uso, né abuso né dipendenza né consumo problematico, ma uso di sostanze stupefacenti, non ho mai avuto un verbale in vita mia, se no quando me lo sono andato a cercare in terza del campo a Siena dove ho fatto una disobbedienza civile con Luisa Bernardini e sono stata condotta in questura spogliata, tra l'altro delle scene veramente comiche, devo dire comunque la polizia di Siena con molta civiltà, perché non era la prima disobbedienza civile che veniva attuata e quindi erano già pronti a comportarsi comunque con tutto un certo livello di... non siamo stati trattati, certo come vengono trattati i ragazzi che vengono presi col fumo, e comunque c'è stato un progetto che ha avuto due gradi con da primo grado, poi un appello, poi alla fine è finito in prescrizione perché sono una trentina di processi e tutta una serie di azioni che Rita Bernardini ha fatto da anni 2000 fino al 2006, 30 processi per disobbedienza civile, purtroppo devo dire che sono azioni che non hanno trovato rispondo mediatico, perché il problema grosso poi anche è stato finora, speriamo di romperlo col numero, è stato quello che tutti questi gruppi antipredizionisti, sia radicali che non, hanno fatto azioni di disobbedienza sia civile che incivile, oppure di manifestazioni, c'è stata una serie di azioni che però sono state non pubblicizzate mai perché attuate da poche persone per volta e in posti in città, in città singole voglio dire, per cui non abbiamo mai avuto la possibilità di uscire poi sui giornali e sulla televisione perché eravamo molto frammentati, la forza del numero sta nel fatto che non possono far finta di non vederci, per questo un po' per noi è il problema di riuscire a farci vedere dall'opinione pubblica perché sia noi sia le idee che portiamo avanti non sono visibili alla popolazione che molto probabilmente con un minimo ridialogo potrebbe anche essere in gran parte della parte nostra, il fatto del numero è proprio, mi chiedono in chat qual è la definizione di uso problematico, l'uso problematico vuol dire quando si usano più sostanze insieme, quando si fa un uso di più sostanze mescolate, quando c'è un abuso, quando c'è una dipendenza, quando è legata a problemi psichiatrici, c'è una serie di standard sociologici di metodologia delle scienze umane che definiscono l'uso problematico, però penso che già con queste quattro specifiche ti ho dato un po' un'idea di che cosa può essere e quindi l'importante veramente è riuscire a essere, io lo ripeto magari sono anche un po' noiosa, però lo sento veramente, l'importanza di essere coesi sull'obiettivo comune perché se non riusciamo a essere tutti insieme non riusciamo poi a uscire e è molto facile dividerci e continuare a imperare con delle strategie proibizioniste. L'ultima domanda che volevo fare e poi vi lascio anche qualche minuto per chiudere se volete, è rispetto proprio alle iniziative radicali di questi ultimi cosa ne pensate? Delle iniziative radicali su questo tema, le ultime sono state sul tema giustizia e carceri, la richiesta di amnistia per alleviare il problema della situazione carceraria e per dare avvio a una riforma della giustizia e l'ultima proposta è Marco Pannella come Ministro della Giustizia. Quindi lo chiedo sia a Giuseppe che a Antonio e vi lascio anche qualche minuto per uno se volete anche fare delle osservazioni conclusive. Giuseppe vai te e poi Antonio? Io sono stato anche a Catania a vedere Rita e Bernardini in una conferenza dove c'era anche la Casellati e praticamente si è parlato delle riforme della giustizia e le argomentazioni dell'onorevole Bernardini di Rita erano delle argomentazioni serissime e la spiegazione della necessità di un'amnistia per risolvere un problema proprio di tortura in carcere, di disumanità, erano delle argomentazioni fondate con dietro prove certe, mentre la risposta che veniva data dall'altro lato era del fatto che in Italia dobbiamo avere la certezza della pena. Mi fermo qua e dico questo, che in Italia la certezza della pena c'è per me che avevo delle piante di marijuana, ma i 200.000 casi prescritti ogni anno, poi non so chi sono i prescritti, se magari può sorgere il dubbio che abbiano qualche parente, qualche amico da qualche parte, perché sostanzialmente io di amici arrestati perché avevo un tocchetto di fumendasca in prescrizione non c'è andato a finire nessuno. Questo per quanto riguarda il discorso dell'amnistia che penso sia necessario per risolvere il problema del sovraffollamento, fatta nella maniera pensata, radicale, in maniera responsabile, in maniera studiata, non vogliono buttare fuori tutti alle carceri a svuotarle, assolutamente. E per quanto riguarda Pannella Ministro della Giustizia, io stimo tantissimo Marco e sicuramente lo vedrei anche come Presidente del Consiglio, veramente. Come vede l'universo! Io sono giovane, giusto? La storia degli ultimi 50 anni mi è toccata prenderla dai libri, dei libri che poi alla fine non la raccontano proprio tutte. Mi accorgo che gli unici veramente che sono disposti a metterci la faccia, a giocarsi la libertà, sono sempre stati gli appartimenti di questi giorni. Tu hai appena raccontato che sei finita in quest'Ura, che a vita ha fatto 30 processi. Eh sì, lo volevo raccontare, è un'esperienza comunque importante, no? Sì, ma quale altro rappresentante di altri partiti politici, a parte sbraitare in dv, essere intervistato nei talk show e gridare a scorciagola di giustizia, di bene per il popolo, chi ci ha mai messo la faccia, chi ci ha mai messo la propria libertà di mezzo? Chi ha rischiato più degli altri? Ok, bene Giuseppe, grazie. Antonio? Grazie a te. Io penso, sono d'accordo anch'io, ovvio che sono a favore per un'amnistia, certamente, è una cosa proprio doverosa. E' ovvio che io non tolgo, anzi, do solo dei meriti tangibili, capito? Per quanto riguarda tutta l'attività del Partito Liberale in tutti questi anni, dunque do merito a Pannella e a tutti voi, ecco, perché le battaglie e le vittorie che avete ottenuto voi, se non c'eravate voi, non so proprio chi le avrebbe combattute e vinte queste battaglie. e poi per quanto riguarda Pannella, Presidente del Consiglio… No, Ministro della Giustizia ci accontentiamo. Scusa, Ministro della Giustizia, scusa, mi sono un attimo… E come… Come Ministro della Giustizia, perché no, certamente, sarei favorevole, scusate. Ma figurati, per carità, senti, vuoi ridire tutta la vostra pagina, qualche indirizzo, qualche informazione finale, così rimane registrata? Si, inutile… Indirizzo web… Si, indirizzo web, cioè liberali e antiproibizionisti.org, se no siamo su Facebook, che era la nostra pagina, su Facebook, che è, appunto, legalizzare la marijuana e le droghe leggere. Ecco, questa è la nostra pagina Facebook. Dove abbiamo, appunto, adesso siamo a 5100… Anche in questi due giorni abbiamo cresciuto di un migliaio di persone. Ecco, dunque siamo molto, molto soddisfatti di questa cosa, ecco. E dunque, ecco, anche per questo, insomma, vogliamo, poi… Abbiamo piacere, ecco, di unirci anche a voi, ecco, sicuramente, per combattere assieme, ecco. Perché più l'esercito è grande e più probabilità si hanno, poi, per vincere battaglie. Certo, basta poi non trovarsi a reticare tra comandanti. Eh, speriamo di no, ma… Non è un esercito, non è un esercito in cerca di comandanti, è un esercito di persone responsabili, almeno così. Sì, sì. Anche perché, voglio dire, comunque, poi portarli eventualmente in piazza è anche un'azione che comporta una bella presa di responsabilità. Perché ci sono anche movimenti piuttosto arrabbiati, giustamente, anche per tanti aspetti. Ci sono degli aspetti più belli di questa vicenda. Ci sono le famiglie dei ragazzi molti picchiati in carcere, che non hanno mai visto né verità né giustizia, che sono stati arrestati, sono legati al discorso antiproibizionista, perché comunque il ragazzo preso con un gambo d'erba diventa un criminale per cui perde ogni diritto e quando arriva in carcere una persona che diventa, purtroppo, in qualche modo di serie B. Cioè perde i suoi diritti, in qualche maniera. No, perché poi, quando viene resta la famiglia, morta dopo 24 ore in carcere, viene usato l'argomento è mai un drogato, è mai un tossico e con questo si mette un po' a tracere tutto. Per cui ci sono anche delle frange un po' diciamo esasperate in questi movimenti e poi portarli tutti in piazza. Bisogna, appunto, anche essere molto responsabili poi di quello che si va a muovere, perché si rischia, poi, di fare peggio, perché chiaramente basta che degenere una manifestazione e poi ho un'ottima scusa per mettere le leggi più severe sulle manifestazioni, come tu sai benissimo immagina, quindi poi può diventare un'arma un po' a doppio taglio. Claudia, ti posso raccontare una chicca, una cosa che è successamente... Altro due minuti Giuseppe, perché poi dobbiamo chiudere le veranze che sono... Sto collaborando con Dolce Vita, scrivo degli articoli per loro, in più mi capita anche con delle riviste online, però l'altro giorno parlando proprio con un redattore mi diceva, a me ti spiace tantissimo, perché tu non potrai mai entrare a far parte dell'album dei giornalisti, proprio perché ho avuto una condanna di tre anni e quindi la vita ti cambia in queste piccole cose, quello che dicevi tu poco fa con i ragazzi che presi con un grammo d'erba devono poi subire questo peso social incredibile. Certo, certo. Va bene signori, io vi ringrazio tantissimo, penso che sia una bella trasmissione che possa essere vista anche nelle prossime settimane, anche per chiarire un attimo perché insomma ci sono state anche tante discussioni in senso buono nei gruppi anticoibizionisti rispetto appunto alla vostra iniziativa e quindi magari questo video può essere visto e può servire anche un attimo come chiarificazione appunto nell'intento di unirci per essere più forti. Grazie, grazie a tutti e due. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie. Grazie a te, grazie a te. Ciao. Roberto ci sei, ciao. Sì, credo che ci sono. Vi ringrazio i tuoi ostri. Grazie Roberto. Allora io vi saluto da Leggero Euforia per tvradicale.it Arrivederci, spero molto presto, su questo oppure su altri canali. Benissimo, saluto te e i tuoi ostri. Ciao, grazie. Torniamo nello studio di Lecce. Ciao.